Dopo la rettifica si dovrebbe cominciare a passare i fatti. Dopo l'ondata di tempesta al Palermo sembra tornata la calma o più precisamente l'occhio del ciclone mai sopito. Entro il 30 giugno la società passerà formalmente nelle mani di Baccaglini, ma se le permesse sono quelle di uno Zamparini non più in carica, ma saldamente al comando della cloche rosa-nero, le differenze rispetto al passato sembrano destinate a restare poche. Il closing ormai è fatto, prova a chiarire Zamparini a Repubblica, bisogna solamente attendere i tempi bancari. L'accordo è quello iniziale, le cifre rassicura, le scoprirete presto dai prossimi investimenti su stadio e squadra. I tifosi stiano tranquilli per l'iscrizione, è tutto in ordine e non ci saranno ritardi. Insomma, davanti a telecamere riflettori resta il patron friulano, mentre Paul Baccaglini, che tanto si era fatto conoscere nelle prime settimane di sensazionalismo mediatico, adesso preferisce non parlare anche se presto sarà nuovamente in città e a quel punto sarà praticamente impossibile dribblare i microfoni. Che Zamparini possa continuare ad influire in maniera decisiva sulle sorti rosa-nero lo si evince dalle scelte in ottica di nuovo allenatore e direttore sportivo. Bruno Tedino è il nuovo allenatore del Palermo, afferma Perentorio Zamparini, lo vedrò prima io e poi Baccaglini. Quattro i candidati per il ruolo di DS, tra i quali spiccano l'ex Empoli Carli e l'attuale dirigente del Trapani Salvatori, importanti indicazioni Zamparini le ha fornite anche sulla rosa per la Serie B. Nestorowski, Alessami e Rispoli rimarranno certamente, proseguito il friulano, Posevesi diventerà un grande portiere, arriveranno seconde linee di qualità. Non ci sarà più Diamanti, esaltato dalla piazza senza merito, secondo Zamparini, così come Pezzelle e Goldaniga in partenza. Baccaglini avrebbe voluto Massimo Oddo per la panchina e Carli di S, ma non sembra in questo momento lui il timoniere della nave.